Nuovo appuntamento alla sala ragazzi della Biblioteca Manfrediana con le letture ad alta voce di libri rivolte ai neonati come strumento per aiutare la crescita, lo sviluppo del linguaggio e l'empatia. Chi, come, dove, quando e perché leggerà il mio bambino, il titolo dell'incontro organizzato martedì 29 per insegnare ai genitori come il momento della lettura, anche se apparentemente possano coinvolgere un bambino di pochi mesi, rappresenti in realtà un forte momento di condivisione fra genitore e figlio. L'incontro di questa mattina è un incontro organizzato dalla Biblioteca, sala ragazzi, insieme al centro per le famiglie e alla pediatria di comunità. È un'occasione per avvicinare alla lettura le famiglie che hanno i neonati, perché la lettura non è un prodo a cui arrivare in età scolare, ma già in quest'epoca, già dalla culla, è possibile offrire ai bambini i primi libri, che chiaramente hanno caratteristiche diverse dai libri per adulti, dai libri per i ragazzi, ma possono essere già uno strumento di prima alfabetizzazione al libro. Quindi durante la mattinata illustreremo alle famiglie che verranno quali sono i libri che possono già utilizzare nel corso del primo anno di vita, e spiegheremo quali sono i benefici della lettura da un punto di vista della relazione genitore-bambino e da un punto di vista dello sviluppo complessivo del bambino. Con leggere ad alta voce ai bambini anche quando appunto sono neonati, perché fa bene ai bambini? Allora, fa bene per diversi motivi. Innanzitutto ci sono dei benefici a livello cognitivo per lo sviluppo cerebrale e non del bambino. Quindi ci sono degli studi che dimostrano che i bimbi che sono stati stimolati attraverso la lettura e che molto spesso, insomma, stanno dentro ambienti particolarmente stimolanti, hanno uno sviluppo cognitivo molto più rigoglioso e interessante rispetto a quelli che invece non hanno ricevuto lo stesso. La lettura è poi anche una bellissima occasione di relazione per i genitori e i bambini, quindi per ritrovarsi insieme in un tempo tranquillo, senza la televisione o senza altri imprevisti sonori ed è un modo per stare insieme, per conoscersi sempre di più e per entrare nel mondo del bambino, entrare nei suoi gusti, entrare nelle emozioni, nel suo modo di vivere la vita. Leggere i libri chiaramente allarga anche gli orizzonti, quindi tanto più un bambino sin dalla prima infanzia trova all'interno del suo ambiente i libri e tanto più vengono offerti come un piacere, tanto più questa offerta rappresenterà per lui un'occasione di conoscenza del mondo, quindi proprio per allargare i suoi orizzonti.